Ciao a tutti carissimi e benvenuti su Digital Best. È passato un po' di tempo dall'ultima videoguida sui migliori droni sotto i 300 euro e nel frattempo di cose ne sono cambiate parecchie. Ad oggi infatti con meno di 300 euro è possibile acquistare droni con performance semi-professionali e che permettono riprese video di buono e ottimo livello. Giusto per farvi un esempio posso anticiparvi che tutti i droni che ho selezionato hanno il gimbal a due o tre assi, cosa più unica che rara da trovare fino a uno o due anni fa in droni di questa fascia di prezzi. Alcuni sono già famosi, altri sono delle novità, insomma basta chiacchiere e partiamo subito. Prima di iniziare vi ricordo soltanto che proprio qui sotto in descrizione vi lascio tutti i link alle offerte per questi fantastici droni. Il primo che vi propongo è l'Absan H117S Zino famoso e atteso quadricottero che alla sua uscita presentava ancora delle mancanze che sono state poi corrette tramite aggiornamenti del firmware. Ad oggi infatti l'Absan Zino è sicuramente uno dei migliori droni che si possono acquistare spendendo meno di 300 euro. E vi troviamo 4 motori brushless montati su braccia pieghevoli in modo da ridurre di molto l'ingombro. Un gimbal a tre assi e una videocamera in grado di fare riprese video fino a 4k di risoluzione. Naturalmente GPS e tante funzioni interessanti come il ritorno alla base automatico, il tracciamento di un soggetto, quindi il follow me avanzato, il waypoint, le foto panoramiche e altro ancora. La distanza massima dichiarata è di un chilometro ma dipende da molti fattori e la durata massima della batteria è di 23 minuti sempre in base alle specifiche. La versione europea con una batteria e senza custodia costa circa 250 euro davvero un ottimo prezzo per questo drone. Vi lascio il link in descrizione dove potete scegliere anche altre versioni, sempre europee mi raccomando, con più batterie e custodia inclusa a prezzi molto vantaggiosi. Lo Xiaomi Fimi A3 è un altro drone che si è fatto attendere parecchio. Le prevendite erano iniziate circa un anno fa ma ci sono voluti diversi mesi per soddisfare tutte le richieste. È uscito più o meno insieme al Fimi X8 che è il suo fratello maggiore ma con le braccia pieghevoli. Il Fimi A3 infatti non ha le braccia che si piegano e quindi tende ad avere un ingombro maggiore nonostante le sue dimensioni contenute. Le sue caratteristiche tecniche richiamano un po' quelle del DJI Spark e quindi abbiamo GPS e GLONASS, videocamera a 1080p stabilizzata su tre assi misti nel senso che c'è un gimbal meccanico a due assi e un terzo asse che viene stabilizzato attraverso il software. Il risultato è davvero ottimo. Ci sono alcune funzioni di volo e ripresa automatiche interessanti come ad esempio il volo orbitale, il droni, il ritorno alla base automatico e il volumi. Sono dichiarati 25 minuti di durata massima della batteria e un chilometro per la distanza ma bisogna sempre ridimensionare in base all'utilizzo e alle eventuali interferenze presenti nella zona. E questo è anche il drone per chi non vuole utilizzare app e smartphone perché ha lo schermo incorporato nel radiocomando e a me questa cosa mi piace un bel po'. Prezzo di listino 280 euro circa ma lo potete pagare un po' meno con qualche sconto. Vi lascio il link all'offerta in descrizione. E adesso passiamo ai droni JJRC che in questa fascia di prezzo sono i maggiori protagonisti e il modello X12 è una novità che sta conquistando molti appassionati alla ricerca di un buon prodotto entry level dal prezzo contenuto. Assomiglia molto al DJI Mavic Air e quindi è molto compatto con braccia pieghevoli e sappiamo tutti che la compattezza e la portabilità sono un gran vantaggio in modo da poter portare con noi il drone in viaggio dentro uno zaino o una borsa senza avere un grande ingombro. Ma naturalmente non è l'unica caratteristica interessante di questo drone. Ci sono due versioni una con videocamera a 1080p e una a 4k entrambe montate su un gimbal a tre assi. Possiede due sensori sotto la pancia uno per l'optical flow e uno a ultrasuoni. Quindi per il posizionamento e la stabilità possiamo contare sui sensori inferiori sul gps e sul barometro. C'è il tasto per il ritorno automatico alla base e sistemi di sicurezza che azionano automaticamente il ritorno al punto di partenza in caso di disconnessione e di batteria scarica. Ha il follow me con tracciamento visuale del soggetto, il point of interest e il waypoint. C'è la possibilità di utilizzare le gesture per video e foto. La distanza massima dichiarata è di 1200 metri ma è un dato che andrebbe verificato in base alle condizioni e la durata della batteria dalle specifiche è di massimo 25 minuti. Possiamo sceglierlo bianco o nero e ci sono diverse versioni. Come dicevo prima con videocamera a 1080p o a 4k e con una, due o tre batterie comprese. In confezione troviamo anche una comoda borsa per il trasporto. Davvero interessante questo drone, da provare. In base alla versione che scegliamo il prezzo varia dai 230 ai 300 euro circa. Trovate il link in descrizione. Il JJRC X9P invece si trova anche sotto i 200 euro e potremmo definirlo un clone del DJI Spark, almeno per quanto riguarda il design e le dimensioni. Ma anche le sue caratteristiche sono buone soprattutto rispetto al prezzo così contenuto e sicuramente può essere un ottimo drone entry level. La versione X9P che vi presento ha caratteristiche superiori alla versione X9 anche se il design è identico. In questa variante troviamo la videocamera 4k invece che a 1080p stabilizzata grazie a un gimbal a due assi. Nella parte inferiore ha il sensore per l'optical flow. Naturalmente il GPS e il ritorno alla base automatico anche in caso di batteria scarica. Possiede le classiche funzioni automatiche del follow me e del point of interest ed è anche possibile utilizzare la modalità gesture sia per le foto che per i video. Nelle specifiche qui viene data come distanza massima 800 metri e 16 minuti di volo con una singola batteria. Da 180 a 230 euro circa il suo prezzo in base alla versione che scegliete con una, due o tre batterie. Trovate tutti i link in descrizione. Ed eccoci all'ultimo drone di questa guida sui migliori sotto i 300. Ancora JJRC il modello X7P che a differenza dell'X7 sempre di JJRC chiaramente con il quale condivide forma e design possiede caratteristiche che lo portano a un livello superiore rispetto al suo gemello. E infatti nella versione X7P troviamo una videocamera 4k con gimbal a due assi. Sensore barometrico, sensore a ultrasuoni per stabilizzarlo ad altezze inferiori ai 4 metri e sensore optical flow. GPS con funzione di ritorno alla base automatico e modalità di volo automatiche tra cui point of interest, waypoint e follow me. Anche qui abbiamo le gesture per le foto e i video. Circa un chilometro la distanza massima dichiarata in condizioni chiaramente super ideali e 25 minuti di durata massima per la batteria. Queste sono le sue dimensioni purtroppo però non è pieghevole. In compenso il suo design è molto accattivante con le sue linee morbide e aerodinamiche. Anche qui troviamo le versioni a una, due e tre batterie che comprendono tutte la borsa per il trasporto. Da 230 a 280 euro circa il suo prezzo. Bene vi ricordo che trovate tutti i link alle offerte per questi fantastici droni proprio qui sotto nella descrizione del video. Spero di avervi fatto cosa gradita con questa guida sui migliori droni sotto i 300 euro. E se è così vi invito a lasciare un like al video, a condividere e ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivando anche la campanella delle notifiche che vi permetterà di ricevere gli aggiornamenti del canale che altrimenti rischiate di perderli. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao!